Ciao a tutti e benvenuti! Sì, vi lascio subito al trailer. Però prima vi anticipo che dopo ci sono news per gli appassionati di Spider-Man. Curiosi? Aspettatemi lì! Mi chiamo Fiona Hart, ho una compagnia di ballo e tu hai veramente un enorme talento. Hai qualcosa di speciale, Luca. Non puoi perdere questa opportunità. Sono pronto. Non voglio scuse, non ce la fate? Grazie tanto e avanti un'altra. Lavoreremo qui tre settimane e poi voleremo a Los Angeles. Tutto quello che desidero lo voglio avere qui, tu con me, una nostra famiglia! Ma questa è la grande occasione della mia vita. Zucchero! Stai attento ai passi! Vuoi un consiglio sincero? Mettiti a fare altro. Nemmeno per sogno. Facciamolo questo cazzo di show! Ok, sei della famiglia. Così te ne vai a Hollywood. E ti ordino di venire a cena con me. Sai perché ballo? Non sempre si può restare a guardare. Buona fortuna, mi avrete bisogno. Devi solo promettermi che alla fine staremo insieme. Finora non è sempre accaduto. Vi avevo promesso le news su Spider-Man ed eccole. Sony ha ufficializzato l'uscita in sala di The Amazing Spider-Man 3 e 4, che arriveranno sul grande schermo rispettivamente il 10 giugno 2016 e il 4 maggio 2018. Il primo The Amazing Spider-Man, lo ricordiamo, ha incassato ben 750 milioni di dollari in tutto il mondo. Una cifra che ha dato il via libera ad un primo sequel, che Mark Webb sta girando e che arriverà nei cinema la prossima estate. I piani della Sony però non sono ancora ben definiti. Potrebbe anche limitare la possibilità che Spider-Man sia incluso in uno dei film della serie di Avengers. E voi vorreste Spider-Man nella squadra di Capitano America e soci? Vabbè, nel frattempo attendiamo l'uscita di The Amazing Spider-Man 2 il 2 maggio 2014 negli Stati Uniti. E per oggi è tutto, iscrivetevi al nostro canale per vedere gli ultimi trailer in uscita. Ciao e alla prossima!